buonasera oggi facciamo una video lezione sulla teoria della relatività generale incredibile dictu non sulla teoria della relatività ristretta ma sulla teoria della relatività generale questo desiderio mi è venuto perché ho visto che anche gli altri anni in effetti ho visto che a molti ragazzi di quinta liceo scientifico anzi in quasi tutte le classi di quinta liceo scientifico si tratta proprio la teoria della relatività e non solo la teoria della relatività ristretta ma la teoria della relatività generale ora dove sta il problema per quanto riguarda la teoria della relatività ristretta l'apparato matematico è molto semplice e comprensibilissimo in una quinta liceo scientifico l'apparato matematico invece per un motivo di cui ci renderemo conto fra breve l'apparato matematico della teoria della relatività generale invece è assolutamente improponibile al livello di liceo scientifico e ecco che quindi mi è venuta l'idea di fare questo questa lezione divulgativa sulla teoria della relatività generale comprensibilissima anche a un ragazzo di quinto liceo scientifico ma perché questo perché l'apparato matematico della teoria della relatività generale cioè il calcolo tensoriale sarà da me soltanto accennato io parlerò dell'importanza enorme del calcolo tensoriale ma non descriverò il calcolo tensoriale nel suo dettaglio matematico che però sarà oggetto della prossima video lezione chiaro allora perché Einstein nel 1915 decide di formulare la teoria della relatività generale anzi questa video lezione perché la faccio perché la teoria della relatività generale è forse la teoria più bella e più meravigliosa che esista della fisica la teoria più geniale in assoluto più della teoria della stessa relatività ristretta dobbiamo dire no ha un'importanza non solo da un punto di vista strettamente scientifico ma un'importanza anche da un punto di vista generale da un punto di vista filosofico spessissimo è stata travisata come poi vedremo anche dallo stesso mondo accademico ma è una cosa di importanza inestimabile per per qualunque intellettuale non è una cosa importante soltanto dal punto di vista scientifico Einstein infatti nel 1915 la formula ben dieci anni dopo aver formulato la relatività ristretta perché vive due aspetti in particolare della teoria della relatività ristretta come delle vere e proprie aporie aporie vuol dire probleme risolto un termine di uso filosofico quali sono le aporie della relatività ristretta il concetto di sistema inerziale diciamo è l'eguaglianza fra massa inerziale e massa gravitazionale due aporie ben precise che vengono risolte genialmente nella teoria della relatività generale per quanto riguarda la massa inerziale per quanto riguarda il primo cioè il concetto di sistema inerziale non è che sia stato Einstein Einstein praticamente interpreta l'iden sentire di tutti i fisici il concetto di sistema Einstein si rifiuta di pensare di dare la patente di primo della classe di primi della classe ai sistemi di riferimento inerziali rispetto agli altri dice ma perché le leggi fisiche devono essere le medesime in tutti i sistemi di riferimento inerziali e tutti gli altri che fanno cioè le leggi fisiche non dovrebbero dipendere dal particolare sistema di riferimento nel quale sono enunciate ma dovrebbero avere la stessa forma la medesima forma per tutti i sistemi di riferimento ecco la teoria della relatività generale per tutti i sistemi di riferimento non solo per i sistemi di riferimento inerziali a parte il fatto che poi nessuno ben capisce cosa potevano essere stati questi sistemi di riferimento inerziali questa stanza il mio studio è un sistema di riferimento inerziale un laboratorio è un sistema di riferimento inerziale però altri non sono sistemi di riferimento inerziali sul concetto di sistema di riferimento inerziale poi poggiava e tutti abbiamo vissuto questo come appunto una poria poggiava il concetto di forza apparente che cos'è una forza apparente? lo dice la stessa parola il concetto di forza apparente ci appare strano lo dice lo stesso termine forza apparente ma la forza c'è o non c'è? è chiaro che il concetto di forza apparente non può avere diritto di cittadinanza in fisica e il fatto che questo discorso sconvolga Einstein diciamo che può essere compreso concetti come la forza apparente concetti come i sistemi inerziali dice Einstein il messaggio che dà alla fisica devono essere superati e questa è la prima poria la seconda poria poi è la differenza tra massa inerziale e massa gravitazionale allora tu devi sapere che la massa deriva da m uguale a f no? può essere definita a partire da m uguale a f principio fondamentale della dinamica ma m uguale a f vuol dire che m uguale a f fratto a cioè da m uguale a f sembra che la massa agevoli l'inerzia la stasi di un corpo non il suo movimento esattamente il contrario invece sia dalla legge di gravitazione universale perché ti ricorderai fg uguale g grande per m1 e per m2 fratto r quadro la massa lì addirittura provoca il movimento quindi com'è possibile che una medesima grandezza fisica quale la massa in un caso diciamo agevoli l'inerzia di un corpo e in un altro caso invece ne agevoli il moto com'è possibile? eppure la massa proveniente dalla legge di gravitazione universale e la massa proveniente da m uguale a f sono misurate sempre dalla stessa grandezza fisica che è la massa laddove, dice Einstein la massa proveniente da m uguale a f si dovrebbe chiamare massa inerziale la massa proveniente da g per m1 e m2 eccetera si dovrebbe chiamare massa gravitazionale o massa pesante come dice Einstein nei suoi libri ecco questi sono gli enunciati le a due aporie che ora vediamo come vengono entrambe risolte genialmente da Einstein allora intanto devo dirti proprio per farti capire l'importanza enorme di quello di cui stiamo parlando che Einstein era anche un grandissimo scrittore non solo un grandissimo scienziato uno dei massimi geni se non il più grande che sia mai esistito dovresti sono delle letture importanti sulla teoria della relatività la relatività l'evoluzione no autobiografia scientifica libro di Einstein in cui parla della teoria della relatività un altro libro in cui vuole esporre in modo divulgativo la teoria della relatività relatività esposizione divulgativa però devo dire nel mio piccolo che questa video lezione probabilmente un po' più comprensibile di quello che Einstein dice se questo è questo dobbiamo dirlo poi c'è un altro splendido libro sulla teoria della relatività che è l'evoluzione della fisica scritta a quattro mani con Leopold Infeld e poi è chiaro questo per vedere solo i libri di Einstein su Einstein allora possiamo cominciare praticamente per far capire l'importanza della teoria della relatività proprio dall'evoluzione della fisica c'è un bellissimo capitolo in questo libro che si chiama Fuori e dentro l'ascensore ed è uno splendido libro scritto in maniera meravigliosa dove addirittura c'è il famoso che Duncan esperimente c'è l'esperimento mentale che suggerisce ad Einstein la sua completamente nuova concezione della gravità vedi addirittura c'è dice questa è la cabina dell'ascensore sorretta da una fune che a un certo punto viene tagliata dice che che succede se la fune viene tagliata c'è una bellissima esposizione proprio del Gedanken esperimente cioè dell'esperimento mentale che ha fatto capire tutto ad Einstein perché come supera Einstein la relatività la forza di gravità la considerazione della forza di gravità superando quindi la differenza tra massa inerziale e massa gravitazionale praticamente Einstein mette la gravità e l'inerzia sullo stesso piano come? se abbiamo un corpo che cade in un laboratorio allora noi osserviamo possiamo fare esperimenti di caduta dei corpi in un laboratorio se però quel laboratorio lì appunto quello dopo che stacchiamo la famosa fune come dice in questo libro se quel laboratorio lì cade sotto l'azione della forza peso semplicemente cade cade come cade il corpo all'interno di esso di esso laboratorio no? quindi una persona all'interno non vede la differenza non scorge la differenza fra cioè non può pensare che il corpo sia soggetto alla forza di gravità semplicemente il corpo è solidale al laboratorio ecco che in pratica Einstein fa una specie di uguaglianza fra l'inerzia e la gravità e questo esperimento proprio suggerisce ad Einstein il fondamento della teoria della relatività qual è la genialità della teoria della relatività generale? il fatto di aver applicato allo spazio la geometria non euclidea le geometrie non euclidee di Bolia e Lobachevsky anzi in particolare di Gauss ancora prima di Gauss sappiamo che la geometria non euclidea era stata formulata da Gauss ma Gauss aveva tenuto nel cassetto i suoi appunti Bolia e Lobachevsky invece avevano pubblicato i loro studi era fresca fresca la geometria non euclidea cioè quella che nega il quinto postulato di Euclide il postulato delle parallele e cioè il quinto postulato di Euclide dice che data una retta e un punto fuori di essa per quel punto passa una e una sola parallela alla retta data le geometrie non euclidee negano il quinto postulato di Euclide per questo si chiamano appunto non euclidee la genialità di Einstein sta nel fatto non nell'aver formulato la geometria non euclidea che esistevano già sta nell'avere applicato allo spazio ordinario nell'aver detto che lo spazio ordinario lo spazio fisico non è uno spazio euclideo ma è uno spazio non euclideo a cui quindi bisogna applicare a cui quindi bisogna applicare la geometria non euclidea cioè quando noi ci troviamo per esempio nel nostro spazio ordinario non dobbiamo pensare per esempio di trovarci su un piano come può essere il piano di questa scrivania che comunque dal video non si vede dallo schermo non si vede ma dobbiamo pensare di essere su una superficie sferica allora la distanza fra due punti non sarà più un segmento di retta perché su un piano euclideo la distanza fra due punti è un segmento di retta la linea più breve che li congiunge invece se noi immaginiamo di trovarci di essere degli esseri piatti tipo flatland di essere degli esseri che possiamo andare soltanto su una superficie sferica la distanza fra due punti in quella superficie sferica sai la distanza più breve qual è? è un arco di circonferenza massima della stessa sfera quella che si chiama geodetica non è più una retta ma un arco di circonferenza massima un triangolo tracciato su una superficie sferica ha degli angoli interni la cui somma non è più 180 gradi ecco cosa vuol dire geometria non euclidea la genialità di Einstein ripeto sta nel applicare la geometria non euclidea allo spazio ordinario allo spazio fisico in particolare il tens in particolare il ds cioè la scissa curvilina la distanza fra due punti sai che il quadrato della distanza fra due punti se le coordinate spaziali sono tre chiamiamole per un attimo non x, y, z ma x, 1, x, 2, x, 3 allora il ds quadro il quadrato della distanza fra due punti che cos'è? sai benissimo che è dx1 quadro più dx2 quadro più dx3 quadro perché se esprimo ds al quadrato posso togliere la radice quadrata al secondo membro no? quindi il rapporto il legame che c'è fra ds quadro e dx1 dx2 e dx3 è semplicissimo deriva dal teorema di Pitagora e dice ds quadro uguale dx1 quadro più dx2 quadro più dx3 quadro se lo spazio è non euclideo è chiaro che le cose si complichino il ds quadro dipenderà ancora da dx1 quadro dx2 quadro dx3 quadro ma non nella forma semplice espressa dal teorema di Pitagora chiaro? e infatti il ds quadro ai dxi quadri dxi quadro chiamiamoli in generale dxi quadri dxi quadro dove i può variare fra 1 e 3 il legame fra ds quadro e dxi quadro verrà espresso da un ente matematico che appunto a livello di liceo scientifico non si può esprimere ma che si chiama tensore metrico e il tensore metrico che ci permette di esprimere il ds quadro in termine dei dxi quadro allora questo ti fa capire che l'apparato matematico della teoria della relatività è sostanzialmente basato sul cosiddetto calcolo tensoriale questo è bellissimo per noi io sono di Reggio Calabria ed è per me titolo di onore vanto che Einstein si sia fatto aiutare nella sua apparato nella formulazione dell'apparato matematico della teoria della relatività da tre diciamo da tre matematici grandissimi matematici italiani che sono ricci Levicivita e Curbastro e come meridionale ci fa o come meridionali ci fa onore che uno di questi tre matematici sia il professor Tullio Levicivita il professor Tullio Levicivita è stato per anni professore ordinario di meccanica razionale all'università di Messina sui cui testi io appunto ho studiato e ho fatto il mio esame di meccanica razionale appunto io sono laureato all'università di Messina questa è una cosa che dovrebbe riempire di orgoglio l'Italia in generale e il meridione in particolare la fisica come sostengo nel mio libro percorsi didattica della fisica è nata nella Magna Grecia non tanto in Grecia quanto nella Magna Grecia ovviamente però come diciamo esito dello spirito della filosofia greca è nata in Magna Grecia la teoria della relatività la teoria della relatività ancora una volta se non fosse stato per l'Italia meridionale non sarebbe esistita perché la teoria della relatività senza l'apparato matematico che è il calcolo tensoriale ovviamente non si sarebbe data Einstein si è servito proprio tra gli altri di un fisico dell'università di Messina il concetto di tensore quindi se Einstein applica la la geometria non euclidea anziché la geometria euclidea vedi le cose si complicano dal punto di vista matematico così come abbiamo il tensore emetrico che nella 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 geometria non euclidea non esiste non è necessario e se dobbiamo parlare di curvatura è chiaro che le cose si complichino perché vedi la curvatura un ragazzo del liceo scientifico sa che la curvatura è uno scalare è semplicemente un numero direttamente proporzionale alla derivata seconda nello studio delle funzioni per esempio è dalla derivata seconda che noi vediamo se la curva di una che se una curva gamma di equazione y uguale f di x ha la concavità rivolta verso l'alto verso il basso no? ed è uno scalare direttamente proporzionale alla derivata seconda della funzione y uguale f di x se lo spazio ma questo succede nel piano addirittura può succedere per una superficie anche lo stesso perché possiamo parlare di una curvatura di una superficie tridimensionale ma sempre nello spazio euclideo se dallo spazio euclideo dobbiamo andare allo spazio non euclideo allora la scala al fattore il trait di union tra spazio euclideo e spazio non euclideo è proprio il concetto di tensore infatti nella teoria della relatività noi non possiamo parlare di curvatura ma di tensore di curvatura non dobbiamo parlare di densità di massa ed energia ma di tensore di massa ed energia che è proprio questo il tensore di Ricci il tensore esplicitamente formulato per la teoria perché Einstein potesse esporre la sua teoria della relatività generale il calcolo tensoriale ovviamente esisteva già da prima Ricci elabora il tensore di Ricci in particolare proprio perché Einstein potesse andare avanti nei suoi calcoli nella sua teoria nell'elaborazione della sua teoria quindi parliamo di curvatura nello spazio euclideo dobbiamo parlare di tensore di curvatura nello spazio non euclideo di densità di massa ed energia nello spazio euclideo tensore di densità di massa e energia nello spazio non euclideo e allora vedi l'apparato matematico si complica però noi possiamo dire che l'equazione di campo che contiene dei tensori nella teoria della relatività generale a livello elementare possa essere volgarizzata possa essere espressa da una formula molto semplice c uguale g fratto c quadro per rho dove c è la curvatura quindi non parliamo di tensori di curvatura no? è la curvatura g è la costante di gravitazione universale quindi come vedi Einstein non sconfessa Newton anzi ne usa la costante di gravitazione universale g fratto c quadro c quadro per la velocità della luce e rho è la densità di materia quindi l'equazione di campo anche se è volgarizzata anche se non corretta perché non c'è il calcolo tensoriale però ti fa capire se è vero che c è uguale a g fratto c quadro per rho che Einstein pensa alla curvatura dello spazio come direttamente provocata dalla densità di materia dalla materia presente quindi vedi considera la forza di gravità in maniera completamente e genialmente completamente diversa ecco come supera il gap fra massa inerziale e massa gravitazionale perché che cosa dice immagina un telone fissato tipo i teloni del circo che utilizzano gli acrobati fissati all'estremità se il telone è a riposo tu lo vedi dritto orizzontale se invece poggi una pietra all'interno al centro del telone il telone si incurva quindi se vai a mettere un'altra pietra magari più piccolo un altro sasso un po' più piccolo all'estremità del telone vedrai che dalla curvatura del telone il sasso più piccolo viene portato verso il sasso più grande ecco cos'è la gravità secondo Einstein è una proprietà dello spazio-tempo la forza di gravità provoca la curvatura nello spazio-tempo e quindi essa è un effetto della curvatura dello spazio-tempo questo effetto telone è stato espresso per la prima volta da un altro grandissimo fisico con eccezionali doti di divulgatore che è Sir Arthur Eddington era Sir Arthur Eddington nel suo meraviglioso spazio-tempo e gravitazione altro libro che io ti suggerisco di ascrivere alla tua biblioteca alla tua libreria personale è importante che lui per la prima volta ha parlato di questo effetto telone ma l'effetto telone ci fa comprendere benissimo proprio questo discorso della gravità come effetto come effetto della curvatura dello spazio-tempo i contemporanei di Einstein non hanno capito nulla della teoria della relatività è importante dire è importante che tu sappia che Einstein ha preso sì il premio Nobel per la fisica ma l'ha preso nel 1921 per la teoria dell'effetto fotoelettrico e l'elaborazione del concetto di fotone 1905 il premio Nobel per l'effetto fotoelettrico gliel'hanno dato ma ben 16 anni dopo perché il mondo accademico bontà sua ha voluto 16 anni per capire quello che Einstein andava dicendo sull'effetto fotoelettrico per la teoria della relatività Einstein non ricevette nessun riconoscimento in vita infatti gli esperimenti più importanti che hanno validato la teoria della relatività dal punto di vista sperimentale sono cominciati nel 1960 intorno al 1960 ben 5 anni dopo che Einstein era già morto ma Einstein per la teoria della relatività ristretta o generale che sia non ricevette in vita assolutamente nessun riconoscimento premio Nobel sì ma per l'effetto fotoelettrico è dato con 16 anni di ritardo il mondo accademico vedi poi certe volte si critica a Hitler che parlava della teoria della relatività come fisica ebraica il problema non era Hitler perché i più grandi matematici e fisici del tempo hanno irriso la teoria della relatività il mondo accademico della teoria della relatività non ha capito nulla non ha capito nulla perché vedi questo discorso una delle verifiche sperimentali della teoria della relatività sta nel fatto che i raggi di luce si incurvano no? allora il mondo accademico perché non ha capito nulla dice ma questo ancora è al fatto i raggi di luce si incurvano come se può incurvare il getto d'acqua che esce da una pompa il getto d'acqua che esce da una pompa si incurva e segue una traiettoria parabolica ovviamente sappiamo perché è fatto di materia e quindi è soggetto alla forza di gravità Einstein ancora pensa che la luce sia fatta di corpuscoli abbia consistenza corpuscolare quando si era freschi di elettromagnetismo l'equazione di Maxwell il trionfo dell'elettromagnetismo di qualche decennio prima aveva sancito al di là di ogni ragionevole dubbio che la luce fosse un'onda elettromagnetica e quindi in quanto tale entità immateriale per il mondo accademico dice Einstein non ha capito niente ancora pensa che la luce sia fatta di corpuscoli non era vero nulla la luce si incurva non perché è fatta di corpuscoli o perché abbia consistenza corpuscolare ma perché segue la curvatura dello spazio quindi come vedi ecco il fatto di dire che non so per esempio che la chiesa abbia abbia sempre arrestato lo sviluppo della scienza è una grandissima idiozia perché è più il mondo accademico semmai che ha arrestato lo sviluppo della scienza in particolare in questo caso ha fatto sì che il povero Einstein in vita non avesse alcun riconoscimento per la teoria della relatività quindi devo dirti che la teoria concludiamo questa lezione se abbiamo capito la curvatura come effetto della densità di materia con l'effetto telone questo si può capire subito ti ricordo che c uguale g fratto c quadro per rho è una volgarizzazione una legge diciamo che esprime l'equazione di campo della teoria della relatività però per un po' per bambini non è perché l'equazione di campo della teoria della relatività è espressa tramite il calcolo tensoriale calcolo tensoriale che a livello di liceo scientifico assolutamente noi non proponiamo però il significato è quello quello espresso dalla formula c uguale g fratto c quadro per rho chiaro? possiamo concludere dicendo che la teoria della relatività è importantissima anche dal punto di vista filosofico da un punto di vista di natura di carattere completamente generale perché cambia proprio il modo di vedere cambia genialmente il modo di vedere la fisica e questo è importante anche dal punto di vista filosofico ci fa vedere che una medesima realtà quale per esempio la gravitazione universale può essere vista in maniera completamente diversa e ti voglio lasciare anche con dunque dicendo mettendoti una pulce nell'orecchio praticamente noi abbiamo sempre sentito dire che la teoria di aristotele sulla teoria dei luoghi naturali di aristotele sia una una sciocchezza no? perché diceva la teoria dei luoghi naturali no? i corpi pesanti vanno verso il basso perché la loro sede naturale è quella invece i corpi leggeri vanno verso l'alto perché la loro sede naturale è quella teoria dei luoghi naturali poi chiaramente Newton con la sua legge di gravitazione universale ha visto il problema in maniera completamente diversa dal momento che aristotele parlava di teoria dei luoghi naturali a me sembra che dal punto di proprio la teoria della gravitazione così come viene fuori dalla teoria della relatività cioè come proprietà dello spazio-tempo si avvicini quasi di più alla teoria dei luoghi naturali di Aristotele che non alla teoria della gravitazione universale di Newton da questo punto di vista noi dobbiamo quindi anche da questo punto di vista rivalutare Aristotele il messaggio di questo video vuole essere a favore della cultura non solo la teoria della relatività è importantissima anche per la filosofia ma è la filosofia che è stata importante per la teoria della relatività tu devi pensare che Einstein diceva si vantava di aver letto questo forse non era vero però lui si vantava diceva di aver letto la critica della ragion pura di Kant già all'età di 16 anni e i primi germi nella sua mente della teoria della relatività proprio gli vennero proprio dalla lettura della critica della ragion pura di Kant questo è un grandissimo messaggio un grossissimo messaggio secondo me che ti fa capire l'importanza della cultura e l'importanza cioè dei vari rami della cultura il fatto di separare l'aspetto filosofico dall'aspetto scientifico dall'aspetto matematico come vedi non sempre paga arrivederci